Manuale dei tributi comunali. Questo è il titolo del libro scritto da Luciano Catania, mistrettese, segretario generale del Comune di Enna e presidente facente funzioni di una sezione della Commissione Tributaria di Messina. Il testo, edito dalla Alla Editore, propone di passare in rassegna la complessa materia dei tributi locali, fornendo agli operatori del settore uno strumento di facile e completa consultazione. Il manuale esamina i principali tributi comunali, con particolare attenzione all'evoluzione normativa e giurisprudenziale che li ha interessati. Il libro di Catania tiene conto anche delle norme che sono state emanate per affrontare la grave crisi economica determinata dalla diffusione della pandemia da Covid-19 relativamente all'anno 2020. L'obiettivo è quello di dare uno strumento teorico-pratico agli operatori dove si possono ritrovare un po' tutte le ultime novità in materia tributaria. Per anni i comuni si sono basati sui trasferimenti che venivano dall'esterno, fossero essi trasferimenti della regione o trasferimenti da parte dello Stato. Oggi i comuni per poter dare servizio ai cittadini devono incassare i tributi. Basti pensare alla spazzatura che deve essere autofinanziata, c'è grazie al pagamento del tributo sulla raccolta e smaltimento dei ricchiuti soldi urbani, i comuni riescono a mantenere punita la città. Se i cittadini non pagano il comune entra in grosse difficoltà perché a sua volta ha una serie di costi, deve pagare la discarica, deve pagare le ditte e quindi diventa essenziale riuscire a incassare queste somme.